Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla ingombrante presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo sta transitando una perturbazione di origine atlantica alla quale si accompagna un vortice depressionario che dalle regioni settentrionali si sta spostando verso sud-est fino a raggiungere la Grecia entro la giornata di sabato 7 marzo. Tempo instabile dunque sulla nostra regione con precipitazioni che stanno interessando un po' tutto il territorio. Ecco in dettaglio invece il tempo previsto per questo fine settimana. Per sabato 7 marzo il cielo sarà molto nuvoloso ovunque con frequenti precipitazioni che localmente potrebbero assumere anche caratteri di rovescio temporalesco, levicate in montagna al di sopra dei 1200 metri, temperature in diminuzione, venti tra deboli e moderati da sud-ovest con tendenza a disporsi da nord dal pomeriggio, mare mosso con moto ondoso e lenta attenuazione. Per domenica 8 marzo le condizioni del cielo saranno irregolarmente nuvolose ovunque con ampie schiarite specie in prossimità della costa, temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, specie nelle vallate interne, venti deboli da nord-est con locali rinforzi e mare poco mosso. Per la tendenza della prossima settimana, a partire dal lunedì, una nuova moderata perturbazione si inserirà sul tirreno determinando un nuovo peggioramento con altre piogge in arrivo su tutta la regione. Da martedì 10 marzo l'alta pressione spingerà in maniera decisiva da ovest allontanando la perturbazione verso la penisola ellenica, dando così inizio a una nuova fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Aumenteranno le temperature soprattutto nei valori massimi, una situazione che dovrebbe durare almeno fino a venerdì 13 marzo, ma per maggiori dettagli si invitano i telespettatori